Ambiente Bagno Antichi. Interprete di stile e design. Ambiente Bagno Antichi propone soluzioni innovative ed esclusive per l'arredamento personalizzato della tua casa e del tuo bagno. Presso il moderno showroom di Follonica è possibile visionare la vasta gamma di proposte e modelli studiati per ogni esigenza abitativa. Pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, arredamenti completi, accessori e complementi per ogni ambiente, porte e infissi. Servizio di consulenza tecnica e progettazione.